Bella a tutti friends e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite Oggi andremo a vedere gli effetti del karma su Fortnite Perché sì, il karma non agisce solo nella vita reale Ma anche su Fortnite ha delle conseguenze importanti Per quelli che non sanno di che cosa sto parlando e come agisce questo karma Andiamo sul nostro amato Google e cerchiamo che cos'è il prosciutto alla marena Non è vero, cerchiamo che cos'è il karma Eccolo qui, vediamo già questa definizione Nella terminologia religiosa e filosofica indiana Il frutto delle azioni compiute da ogni vivente In quanto determina una diversa rinascita della gerarchia degli esseri E un diverso destino nel corso della susseguente vita Attenzione, non so quanti di voi credono nel karma Comunque qui ci dà una buona definizione Se non l'avete capito, in pratica Se siete quelle persone che passate circa la metà della vostra vita sul divano A mangiare Nutella e non fare nient'altro Molto probabilmente rinascerete catarro Sì, quel catarro giallo schifoso che viene sputato Magari che verrete sputati dalla bocca di un vecchio con la dentiera E mentre sputa il catarro Cioè voi sputa anche la dentiera Insomma uno schifo allucinante Perciò se siete tra quelli che mangiano Nutella tutto il giorno sul divano Questo video è per voi E soprattutto quando morirete rinascerete catarro Perciò alzatevi da quel divano e togliete quella mano nel barattolo di Nutella Ok, fatta questa piccola premessa su che cosa è il karma Spero che ora vi sia tutto più chiaro e limpido e catarroso Possiamo partire con il video Andiamo a vedere di che cosa si tratta Ok, lui sta distruggendo le strutture Lo faccio pure io sempre da viscitissimo Se c'è un nemico ora molto probabilmente morirà Cattivo Eh, lui balla Oh! Oh! In testa! Mai ballare! Mai ballare! No, poverino Anche questo balla Si gira e lo chilla Oh mai! C'è chi... Gli è arrivata una cecchina da fuori No, poverino Sono amici Gli ha tirato una... Oh! Dove va? Gli ha tirato una congelante Ok, lui sta fai dando Eccolo Eh, niente Non l'ha costruito al lato Attenzione Eh, ha ballato anche lui Ha ballato anche lui Vediamo Penso che lo stia chiamando Per farlo uscire dalla... Della struttura Ok, l'ha visto? C'è chi nada? Uh Mai Dice cose... Si casa... Si casa... Ok, velocizzato Intanto c'è la mamma dietro di lui Balla! Attenzione! Oh 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 oh! Mai ballare quando killate La maledizione La maledizione è uscida fuori Vediamo qui Sono... Stanno facendo un fight Ok Trappola Easy Eh l'ha killato L'ha killato Eh GG Bella kill Bella kill Si va a prendere il loot Eh Oh Balla anche lui Non muore però Si muore C'è chi nata la struttura E goodbye Calamity La maledizione del ballo No che sfiga Una semtex addosso Che cosa è successo Ha ballato comunque Uno di vita E killato Questo è dottor lupo E mister lupo con ninja Si stanno trollati Si stanno trollati Ma dottor lupo Si è autotrollato Take the hell E svim Ci avrei giurato Scontato 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 Non si balla La maledizione Oddio questo non ho visto È saltato dall'alto Pompa in faccia Balla E Sbam Sbam Oh 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 La trappola furbetta Fa male Oh quando c'erano i fortini Regà Vediamo che fa Ha tirato un fortino Penso addosso a qualcuno Ok lui è sotto Raidi Terà sicuro Scende Pompa Pompa Ok Good job Oh Dub Trappola Sbam Vediamo lui che fa Il dottor Schizzer Oh Morto così Brutto Brutto Ok raga Qui Si parla di molto tempo fa No Non balla Addirittura Gli dice Sei Sei Oh Che sfiga Con il quad Gli aveva detto Sei un Come si chiama Quel coso Raga ma Sta ragazza Serissimo Tre secondi dopo Serissimo Ma come rideva Comunque gli aveva detto Quello di prima Sei una patata Eh lo finisce Oh lo fanno ballare Mai Gli sta bene comunque Gli sta bene Sentite I ragazzi Come si fomentano Sentite Uno contro uno Raga Uno contro uno Lo sta trollando Alla grande Lo sta trollando Alla grande Lui straserio Tira sul Ma come l'ha killato Cane Che cane Ah è deltaplani Ha deltaplani Che cane In 41 Manca di Ah sono due amici Sono due amici Oh gli ha distrutto La scala Lui non se ne ha accorto Ti sta bene Ti sta bene Vediamo qui che succede Dean creative In creative E' andato indietro E' andato indietro E' agchillato La trappola L'ha fatto ripartire Lo respawn precedente no regà io avrei tiltato tantissimo uh nice edit si prende regà quando c'era ancora la mitraglietta silenziata no balla sulla finestra mai ballare cecchinata no ok pensavo lo cecchinavo dalla finestra scende giù trappola oh che paura è uscita fuori la trappola oh qui il fenomeno vediamo un po' che fa ma come come regà era passato prima non l'hai aiutato trappola sopra è la sua la trappola no finisce vediamo un po' se balla vediamo se la maledizione va anche su eh balla maledizione mai ballare vicino alle finestre invece no ma non è la sua la trappola non l'ha visto e non gli ha dato la kill vediamo un po' dai queen vediamo un po' il maestro del pompa è uno verso su Non lo trolla da grande Vediamo chi fa Trappola Trappola Che pollo Troppa fiducia Nei propri mezzi Signori Troppa fiducia Nei propri mezzi Quanto tilti Quando succede Una cosa del genere Occhio A forza di trappola L'ha killato Balla Addirittura Floss Eeeh La maledizione Del ballo Ha ballato Deve morire Come dice Gira Oh Cecchinata Da chi l'ha do Penso di no Eeeh GG GG Doppio cecchino Doppio sniperata Arrogante e violenta Ma da dove Adesso c'è mia nonna Che mi disturba Ovviamente come al solito L'impicciona Oh Pompata No Bruttissimo Morire così Che succede Lui balla Oh Oh Balla E nemmeno Tre secondi Vediamo Sta ragazzetta Ok ragazzi Vanno sempre Riti Ragazzi Come per come Gridano Quando vengono Killate Oh Brutto 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 Faceva lo Schiaccianoci Ebbè è stato Schiacciato Vediamo un po' Ha messo otto Trappole nel giro Di sei secondi L'ha killato Eeeh Normale Normale Un mini Balletto Non mi dire Gli costa la vita Questo mini Balletto Regà Ci stavo pensando Che una trappola Non era la sua Ci stavo pensando Il mini Balletto Gli costa la vita Dub anche lui Ah no Uno contro uno Quindi Chilo Kill Che pollo Che pollo Vi sta bene Però voi che ballate Vi sta bene La maledizione Del ballo Occhio Qui è ninja Quando era capodanno Mi sa Vediamo lui Che Dai quindi Gli ho fatto Prendere un infarto Se è messo Una gufga Dove l'occhio Vediamo un po' In creative Mamma mia Regà Io ora sto Prendendo un po' Di creative No Cane Che cane Ha ballato Muore sicuro Da trappola Vediamo un po' Siamo tornati Nelle public Ok Ha materiali Che ride Perché ride Lo sta trollando Oh Non ridi più Ora Non ridi più Ora Vediamo un po' Oddio Ha la faccia Tipo un Un supplì Schiacciato Sto ragazzo Sono due Uno verso Suno Dieci Kilo Lui Ti butta giù Le strutture GG No Invece No Le attaccate Lo sfotte Perché ha usato Il lanciarazzi Beh L'ha usato In una maniera Brutale Il lanciarazzi Vediamola un po' Lui come va A pinnacoli Regà Va così Morto All'istante Signori Il video di oggi Termina qui Vi lascio il video Di questo ragazzo Se lo potete vedere Qua sotto In descrizione Il video completo Però comunque Questo video vi ci sia piaciuto Lasciate un bel like Condividendolo con i vostri amici Almeno anche loro Vedono se balli Deve morire La maledizione Del ballo Noi sicuramente Ci vediamo domani Con altri nuovi video E fatemi sapere Se anche voi Il karma Ha punito All'interno Del gioco di Fortnite Scrivetevi qua sotto Nei commenti Noi ci vediamo Più tardi O domani Con altri nuovi video E Le belle Mesami Noi ci vediamo